Segnale News Un uomo di 41 anni di Sant'Andrea del Garigliano È finito in manette Lo stesso nel mese di ottobre scorso Era stato sorpreso dai carabinieri Mentre aggrediva la consorte Ha continuato nella sua condotta oppressiva E per questo è finito di nuovo nei guai Ora si trova rinchiuso agli arresti domiciliari Ancora la cronaca Lo scorso 29 marzo Fu coinvolto in un violento scontro frontale In località riuscito dopo 20 giorni di agonia È morto all'interno dell'ospedale Agostino Gemelli di Roma Il sessantotenne Carlo Mastrangeli A causa delle profonde ferite riportate nell'incidente Incidente nel quale rappresenta anche la moglie di 64 anni Che si trova ancora ricoverata all'ospedale Umberto I di Roma I funerali dell'uomo si svolgeranno nella giornata di oggi Cambiamo argomento Ieri mattina è avvenuta la presa in possesso da parte del Consorzio Per lo Sviluppo Industriale di Frosinone Preseduto da Francesco De Angelis Del compendio industriale ex videocon di Anagni Si tratta di un atto assolutamente fondamentale e propedeutico All'attivazione delle procedure per la reindustrializzazione del sito Per il quale il Consorzio ha immediatamente istituito il servizio di guardia Del compendio appunto 24 ore su 24 Nei prossimi giorni verranno affidati poi servizi di caratterizzazione ambientale Del sito finalizzati a valutare eventuali contaminazioni del sottosuolo Del compendio in parallelo il presidente dell'ASI De Angelis Avvierà una serie di consultazioni con le rappresentanze sindacali Le associazioni datoriali e gli eletti Al fine di condividere il percorso di reindustrializzazione del sito Si ipotizza che il mando pubblico per la reindustrializzazione Si è approvato entro il prossimo mese di giugno La pagina politica è saltato Il Consiglio Comunale a Cassino Giuseppe Golini Petrarcone non ha più la maggioranza In questo senso alcuni consiglieri tra cui Anna Donofrio e Fausto Salera hanno fatto mancare il numero legale La Donofrio non si è presentata all'interno della seduta consigliare Mentre Salera è uscito dalla sala di Biasio nel corso della seduta Al centro della discussione c'era il PUT Il piano urbano del traffico Che comprendeva due importanti punti riqualificanti Dell'opera legislativa di Petrarcone L'isola pedonale e lo spostamento del mercato settimanale del sabato Dunque si anima il dibattito politico In vista delle prossime elezioni amministrative Nella città martire L'argomento di cui avremo modo di parlare In maniera più diffusa E per concludere alle 12 di ieri Il Papa Francesco ha nominato il nuovo arcivescovo dell'Arcidiocesi di Gaeta Si tratta di Monsignor Luigi Vari Semplice sacerdote della Diocesi di Velletri e parroco a Valmontone Docente di scritture sacre e direttore dell'Istituto Leoniano di Anagni Si tratta di un fatto assolutamente storico Perché l'Arcidiocesi di Gaeta fino a ieri Era sempre stata guidata da nunzi apostolici La nomina invece di Monsignor Luigi Vari È arrivata all'indomani della rinuncia Al governo pastorale da parte di Bernardo Donorio Per 25 anni lo ricordiamo E lo ricorderete Abate di Monte Cassino Originario di Veroli Che va in pensione per sopraggiunti limiti di età Insomma era questa l'ultima notizia Di questo primo appuntamento informativo Della giornata Noi ci risentiamo e ci rivediamo più tardi Signale e ne usa